Buon salve a tutti e benvenuti a questa prova di podcast con Daniele. Eh sì, se stavate cercando quello che parla romano, coso, quello là, beh, lo sto sostituendo nel tentativo di trovare un sistema e poter avere periodicamente le vostre puntate di Fubar, tra me e Eugenio, e avere sempre del materiale aggiornato con punti di vista differenti. Infatti, io voglio parlare un po' di quello che faccio durante la settimana, sia nel mondo open source, sì, no, diciamo principalmente nel mondo open source, perché ci sono molte cose di cui parlare e cui c'è bisogno di promozione, di diffondere, non dico il verbo, ma promuovere tutta una serie di attività che succedono in Italia in diversi ambiti. Quindi, cominciamo parlando un po' delle cose di cui mi sono occupato questa settimana, lavorando con un plugin per WordPress, in cui ho notato che ci sono diversi problemi a livello implementativo delle chiamate database, per chi non sa cos'è un database, il database è un contenitore di informazioni intelligente in cui noi possiamo richiedere informazioni utilizzando un certo linguaggio in modo specifico, quindi è come quando andate in biblioteca e cercate un libro, voi avete il campo libro, ovviamente, il database, diciamo, è una versione molto più avanzata di questo campo libro in cui scrive perché vi permette di poter cercare, secondo tutta una serie di fattori, dalla data, da chi l'ha caricato e così via. E quando un programma fa delle chiamate database, serve per mostrare queste informazioni nell'interfaccia. Il problema è quando queste informazioni sono ripetute, ovvero questa chiamata avviene più volte, è come se voi andate dal commesso del libro, per il libro, e nel giro di un minuto chiedete quattro volte se il libro è disponibile. Lì vi disponderà sì ogni volta, ma voi, innanzitutto, state facendo la figura da scemo, ma state anche sprecando del tempo prezioso, perché voi l'informazione l'avete già ottenuta, quindi è importante saper mettere in cache, ovvero da parte, per evitare chiamate, visto che il dato è quello e non cambia entro un certo lasso di tempo, da parte. Quindi uno dei problemi che ho notato in un plugin che voglio nominare, che è l'IFTRLMS, in cui sto contribuendo nell'analisi di questi problemi, perché lo utilizziamo sul nostro sito Skills & More, per poter ottimizzare le performance e aiutare lo sviluppo, perché essendo un progetto open source, ogni suggerimento è sempre benvenuto, perché ottimizza e migliora l'esperienza di tutti quanti gli utilizzatori, in modo molto pulito. Un'altra cosa di cui voglio parlare è l'ammettività Emozilla, perché adesso si sono ripreso finalmente a lavorare con, sfortunatamente, Docker, che io odio dal profondo del cuore, perché lo ritengo un sistema complicato per poter avere una macchina su cui lavorare, non voglio entrare nei dettagli tecnici, il Docker è un sistema per poter avere non delle macchine virtuali, ma dei container. Il container è praticamente un sottosistema, con tutta una serie di programmi preconfigurati, che girano all'interno di un altro sistema operativo. Però non è una macchina virtuale, non voglio entrare nei tecnicismi, perché posso essere molto noioso quando parlo di queste cose. Fatto sta che sono riuscito ad avere finalmente una mia auto X86, di cui ho scritto un articolo sul mio blog, in cui posso lavorare con Docker, perché gira in una macchina a sé stante, e qui accedo via SSH tramite il mio computer. Per chi si domanda cos'è SSH, SSH è uno strumento per poter accedere, in modalità remota, ad un altro dispositivo Linux, o Unix, e poter dare dei comandi, come se fossimo dentro quel computer, tant'è che infatti sta per Secure Shell, ovvero questa comunicazione tra un computer e l'altro, in cui ne possiamo dare anche comandi da amministratore di sistema, quindi è molto delicato, sono criptati, e permettono di avere il completo accesso alla macchina. Spesso infatti negli hosting c'è questa possibilità, di poter avere un accesso a SSH, e di poter gestire la macchina come vogliamo noi, ma ovviamente ha una funzionalità avanzata, e non tutti gli hosting la offrono, dipende ovviamente dal piano che è stato utilizzando, e vi permette anche di utilizzare ad esempio strumenti come Pupi, Glide per Wordpress, che sono molto utili per poter ottimizzare tutta una serie di necessità, che c'è nella manutenzione, nello sviluppo e nel funzionamento di un sito, ad esempio noi lo utilizziamo, per poter fare backup in modalità lato server, senza dover sovraccaricare Wordpress, perché utilizziamo un plugin, in questo modo noi eseguiamo la richiesta di fare backup, lato server, e non lato web server, e riusciamo ad farlo anche sfruttando il crono di sistema, quindi abbiamo alleggerito il nostro sito Wordpress, e lo facciamo in modalità pulita, trasparente, senza sovraccaricare l'esperienza per i nostri utenti. Questo è uno dei modi con cui si può sempre utilizzare SSH e WP Clive, perché io ho configurato tutto tramite SSH, e adesso questo sistema viene eseguito una volta a settimana, sfruttando WP Clive. Dicendo, tornando a Mozilla, mi sto lavorando a dei progetti, uno di questi è Janitor, Janitor non so se chi lo conosce, è un sistema per poter avere tramite browser, un accesso a una macchina virtuale, e poterci lavorare sopra, specificatamente su un progetto, ad esempio Firefox, come potrebbe essere Rust, come potrebbe essere Discord, come potrebbe essere WordPress. Cosa significa? Basterà avere un account, e noi avremo un sistema virtualizzato, per poter lavorare online, e contribuire ai progetti. Io sto lavorando, da più di una settimana, a una macchina per WordPress, in modo tale che tutti possano contribuire, evitando la necessità di dover installare, del software, ad esempio durante WordCamp, che è una procedura molto noiosa, e complicata, e che spesso può non funzionare. Se invece ci troviamo con un sistema, che gira tutto da browser, incluso l'editor di programmazione, semplifica molto, lo utilizzo, e la possibilità di contribuire, semplificando molto la curva di apprendimento. Sto collaborando molto anche al portale del EPS, che è un programma di Mozilla, ovvero i rappresentati, i rappresentanti, delle comunità, e il cui scopo è quello di aiutare le comunità locali a crescere, ed evolversi, e creare ovviamente relazioni, tra le altre comunità sul territorio, ma anche altre comunità a livello Mozilla, in ambito internazionale. E sto lavorando a correggere alcuni bug, che ci portiamo a diverso tempo. E qui parliamo ovviamente di una tecnologia, completamente diversa, perché è basato su Django, quindi Python. Cambiando completamente l'argomento, rimanendo nel mondo WordPress, voglio parlarvi di GlotDict, che è un nome impronunciabile da dire, ma si sa, gli sviluppatori non hanno molta fantasia, ed è un'estensione per i browser, la mia prima estensione per i browser, che ha raggiunto questa settimana le due anni di età. Quindi ho voluto scrivere un lungo post sul mio blog, in cui spiego come mi ha aiutato sviluppare un'estensione per poter crescere non solo la mia esperienza come sviluppatore, ma tutto quello che ho imparato, perché tramite questo progetto mi sono ritrovato a parlare di glossari traduzioni, una cosa che non avrei mai pensato di fare nella mia vita, ma anche di imparare molto nello sviluppo di estensioni e facendone altre, creare dei tool per la comunità WordPress Polyglots nel tempo, che sono utilizzati e che permettono di migliorare l'esperienza utente di gestione delle traduzioni, ma anche di poter partecipare come relatore ad esempio a WordCamp Europe dell'anno scorso, e a molte altre cose. Quindi vi lascio il link per approfondire questo argomento. E non voglio annoiarvi, quindi passiamo subito ad un altro argomento inerente sempre a WordPress, perché io seguo la comunità dedicata allo sviluppo del core, in cui noi facciamo riunioni settimanali nella Slack italiano il lunedì, e la prossima settimana ci parleremo di PuppiClay, che sta lavorando per il rilascio di WordPress 4.9.5. Il punto è che c'è stata una discussione riguardo l'integrazione di Gutenberg nella versione 5.0, perché Gutenberg al momento non è ancora pronto, perché mancano tutta una serie di funzionalità. Ad esempio la possibilità di avere le metabox è stata aggiunta da qua, c'è credo due settimane, quindi il problema al momento è che non si sa quando riverrà rilasciata la WordPress 5.0, anche perché finché Gutenberg non è pronto, non ci sono dei mesi in cui venire lasciata una beta RC, è impossibile fare una pianificazione a lungo termine, quindi si sta lavorando ad una minor che potrebbe avere moltissime funzionalità perché sopperisce al momento al rilascio che di solito avviene in aprile di una major che poteva essere la 4.10. Quindi stanno lavorando e la proposta di sviluppatori di Gutenberg è di proporre qualcosa, un primo merge, ovvero una prima integrazione di alcune delle funzionalità di Gutenberg, non si sa che livello perché non ho approfondito, perché io sinceramente, personalmente, non mi piace per niente Gutenberg, per aprile. Quindi vedremo nelle prossime settimane cosa succederà, ma sicuramente la 4.10.5 avrà molte cose interessanti, specialmente in ambito di sviluppo e di miglioramento da quello che noto nel log e da quello che mi ricordo adesso in ambito di accessibilità. Oltre all'ambito di accessibilità ci sono lavorazioni e moltissime migliorie, probabilmente ci sarà una interfaccia per poter gestire, anzi, per poter visualizzare i dati di sistema del sito e dell'hosting utilissimo in ambito di debugging, specialmente quando si sviluppano plug-in e si vogliono avere informazioni sulla macchina, in cui c'è ad esempio quanto ranno c'è, la versione PHP, che plug-in ci sono installati, un po' come fa WooCommerce, nel suo pannello di status di sistema ne avremo probabilmente uno integrato in WordPress, ma ci sono molte altre cose che al momento non voglio dilungarmi a dire, ma sicuramente la 4.9.5 sarà molto interessante, non tanto perché ci saranno diverse mie patch integrate, finalmente, ma perché ci saranno veramente molte cose. questa settimana c'è stato anche l'ama di Italo Vignoli per chi non lo conosce è il fondatore di Document Foundation e poche parole di Libre Office, vi consiglio di raggiungerlo sul Reddit di Italo Informatica per leggere le domande che ci sono state fatte di cui anche io ne ho fatte un po'. Ritornando a WordPress di nuovo, finalmente nella concodate abbiamo rilasciato la versione di Glossary 1.5, anzi siamo la 1.5.2 perché nel rilascio siamo accorti con diversi casi specifici e alcuni bug che sono stati già corretti e rilasciati nella nostra versione del nostro plugin di punta che ho mai superato le 900 installazioni che permette di poter avere il glossario dei termini automatizzato all'interno del proprio sito che è molto utile in ambito SEO e anche per chi vuole poter creare una specie di Wikipedia e poter trattenere il visitatore il più possibile nel proprio sito internet con WordPress. Cambiando argomento di nuovo passiamo ad Industria Internet Software Libre che è un'associazione italiana di cui sono vicepresidente e il cui scopo è quello di migliorare le relazioni tra aziende italiane che lavorano e contribuiscono in ambito open source e ovviamente ne fa moltissime altre cose l'idea era questa fra poco al Mergit avremo le elezioni per il nuovo direttivo dopo due anni di associazioni in cui purtroppo non abbiamo dovuto fare molto perché il concetto di questa associazione è di poter collegare i professionisti e i professionisti come dice il termine lavorano e quindi sono molto impegnati e non siamo purtroppo riusciti a fare tutto quello che volevamo fare nei primi due anni di vita quindi stiamo già lavorando a un piano per questo anno in corso e al Mergit avremo una track tutta dedicata a noi il Mergit per chi non lo sa è un evento che ci sarà a Torino il 24 marzo con almeno 11 comunità italiane dedicate al mondo open source e alle libertà digitali quindi passeremo da Wikimedia a Ubuntu per passare a Mozilla per passare all'industria del software libero l'Italian Linux Society e molte altre e questo è uno dei più grandi eventi italiani in ambito open source quindi vi invito a venire per chi vuole non tanto per rimediare un po' di gadget o incontrare me ma poter scoprire moltissime cose che sono veramente interessanti arrivando all'ultimo punto una delle informazioni arrivando all'ultimo punto leggendo su Reddit Italia Informatica spesso vengono fatte le stesse domande da giovani che vogliono incominciare a lavorare dopo che si sono laureati in ambito informatico come sia ingegneria che informatica generale il punto in questo caso è il fattore esperienza perché quando si esce dall'università si ha un bagaglio culturale molto stretto che non è detto che sia utile per poter trovare un lavoro in ambito informatico io faccio sempre la mia esperienza io ho 27 anni fra poco 28 non ho una laurea eppure sono attivo in molte comunità open source come programmatore sono stato relatore in moltissime conferenze come ad esempio un mese fa a Bruxelles al Fosdem e tutto questo senza avere un foglio di carta che attesta che io sono laureato in informatica ma tutto grazie all'esperienza dimostrare che in ambito informatico spesso conta molto di più il nostro bagaglio personale e nel mio caso il bagaglio personale come ho spiegato nel mio ama di settembre dell'anno scorso su Reddit di cui vi metto il link è nato tutto grazie alla mia voglia di fare di sporcarmi le mani perché mi annoiavo tra virgolette e quindi ho avuto ho un grande bagaglio di esperienze in progetti da project management al miglioramento del mio Talish that is very bad spero non più di tanto tutto grazie a contribuire al mondo open source in progetti di programmazione quindi se anche voi vi fate la domanda posso fare programmatore a 30, 40, 50 anni perché ho letto anche questo il punto è dipende su cosa voi volete focalizzare voglio dedicare a fare siti web a fare un sitarello a fare un'applicazione per il telefono per il computer voglio fare amministratore di sistema su linux tutto dipende da quello su cui vi volete interessare perché ci sono molti modi per poter imparare da corsi online sia in inglese che in italiano come il nostro progetto skills non voglio fare troppo spam ma il concetto è che è molto facile oggi poter lavorare come programmatore ovviamente richiede del tempo fare esperienza però è possibile farlo e tutto sta nella voglia di potersi dare da fare e migliorare le proprie conoscenze quindi il primo punto che vi consiglio è di decidere cosa volete fare e poi provare a vedere se fa per voi quello che avete deciso perché tutto sta nella motivazione personale a poter crescere e poi si può trovare un progetto open source in cui si può fare qualcosa ovviamente dipende dall'esperienza perché se noi partiamo io voglio che ho imparato JavaScript adesso voglio contribuire a un progetto open source che ha 100 milioni di utenti per dire di sviluppatori sperando una cifra a caso ovviamente non è alla portata di tutti quindi bisogna sempre fare passo per passo ma piano piano si riuscirà ad avere questa esperienza il trucco quindi è trovare del tempo da dedicare in questo accrescimento personale che vi consiglio se ovviamente volete buttarvi nel mondo della programmazione bene questa è la prova di podcast che ho fatto sul momento spero che sia piaciuta se ci sono suggerimenti anche su come migliorare e che voglio spiegare i termini tecnici siete benvenuti ci vediamo la prossima settimana o la prossima volta a secondo di quando mi gireranno